bentornati sul mio canale oggi vi parlo di un prodotto molto interessante in assoluto uno degli smartphone più attesi di questa prima parte del 2022 e sto parlando di lui lo xiaomi 12 pro ve ne avevo già parlato con le mie prime impressioni nell'unboxing di qualche giorno fa come vi avevo anticipato io lo sto utilizzando ormai da qualche tempo circa due settimane e oggi sono pronto a raccontarvelo e c'è tanto da dire perché è un prodotto che sono sicuro che farà discutere comunque non voglio anticiparvi troppo e andiamo a conoscerlo più da vicino dunque questo xiaomi 12 pro arriva in italia a cifre importanti perché parte da 1099 euro e addirittura per la mia versione quella da 12 giga di ram ne sono necessari 1199 euro sono tanti sono pochi a prescindere da qualsiasi ragionamento fa sempre impressione leggere queste cifre accanto al nome di uno smartphone in particolar modo accanto al nome di uno smartphone di xiaomi soprattutto rispetto a come l'azienda cinese ci aveva abituati in passato bisogna sottolineare però che già nel 2021 in realtà c'era stato questo posizionamento nel segmento premium del mercato con il mi 11 ultra quindi mi sento di dire che insomma ormai si tratta di una tendenza consolidata per il marchio e devo dire però che a questo giro ho riscontrato una cura al dettaglio che difficilmente avevo visto in passato nei top di gamma di xiaomi intendiamoci sono un grande appassionato del brand seguo xiaomi dalla primissima ora mi è anche capitato insomma di dedicare alcune conferenze al brand praticamente all'inizio della sua avventura però ecco rispetto ai top di gamma c'era sempre qualcosina che mancava rispetto ai diretti concorrenti a questo giro invece ci sono alcune caratteristiche che ci sono solo sul 12 pro e che non ci sono sui diretti concorrenti una di queste è certamente la ricarica rapida quella a 120 watt con il caricabatteria incluso in confezione xiaomi dichiara sulla carta che questa ricarica in grado di portare la batteria da 0 al 100 per cento in 18 minuti e vi posso dire che è davvero così ci si mette qualche minuto in più 21 22 minuti ma davvero in attorno insomma ai 20 minuti è possibile ricaricare completamente lo smartphone e devo dire che questa è una grandissima comodità in secondo luogo ci sono ad esempio due altoparlanti stereo a due vie che devo dire garantiscono una qualità audio che difficilmente ho visto quest'anno nei top di gamma ma in realtà anche insomma nei top di gamma degli ultimi anni per cui da questo punto di vista ecco il 12 pro riesce certamente a fare meglio rispetto alla concorrenza ma sarebbe ovviamente come dire troppo riduttivo parlare del 12 pro solo rispetto a questi due dettagli perché andiamo con ordine perché insomma come vi ho detto all'inizio c'è davvero tanto di cui parlare e partiamo innanzitutto dallo schermo display che domina la parte frontale è un pannello da 6,73 pollici a risoluzione di 1440 per 3200 pixel e soprattutto ha una frequenza di aggiornamento variabile a 120 hertz pannello bellissimo si vede benissimo all'aperto ha una grande luminosità e questo chiaramente aiuta in tante condizioni di utilizzo nella vita reale l'unico aspetto che non mi ha convinto fino in fondo della qualità di questo pannello è la riproduzione cromatica perché lui tende un po' a modificare i colori no a renderli meno naturali rispetto a come dovrebbero essere e questo devo dire che ha una ripercussione tra virgolette negativa rispetto a come si visualizzano le fotografie scattate da questo 12 pro sul suo display rispetto poi a come lo sono sul serio quindi magari trasferiti su un computer e lavorate magari su un monitor appunto per fare editing fotografico ecco lì si vede una differenza proprio di approccio cromatico di riproduzione dei colori che vengono effettivamente un po' sfalsati da questo pannello che però devo dire mi è piaciuto tantissimo nonostante questi bordi curvi che io non amo faccio coming out insomma non mi piacciono non sono particolarmente curvi in questo smartphone per cui non creano più di tanto quel fastidioso fenomeno dei tocchi involontari sullo schermo però ecco io sono un amante dei display piatti dei display flat sto apprezzando tantissimo quello dell'S22 plus che mi sta piacendo tanto e ve ne parlerò nei prossimi giorni nelle prossime settimane qui sul canale però insomma display assolutamente promosso e questa frequenza d'aggiornamento a 120 hertz che quindi fa muovere più velocemente i fotogrammi sul pannello rispetto alla media chiaramente lo rende adatto anche per videogiochi per film insomma potrete godervi una puntata della vostra serie tv davvero in alta in alta qualità peraltro questa frequenza d'aggiornamento che lo rende adatto anche ad eseguire videogiochi mi consente di collegarmi con il discorso delle prestazioni ora è diventato sinceramente superfluo parlare di prestazioni sulli smartphone top di gamma qui abbiamo lo snapdragon 8 gen 1 accoppiato a 12 giga di ram cos'altro posso aggiungervi tutto scorre in maniera fluida veloce non ho mai sinceramente riscontrato problematiche da questo punto di vista i bollenti spiriti di cui tanto si parla di questo snapdragon 8 gen 1 sinceramente vengono tenuti a bada da questo da questo smartphone ecco se c'è una roba un aspetto che mi ha convinto un po di meno è invece la parte software ma perché lui ha la miui 13 c c'è ovviamente android 12 insomma tutto ciò che ci si può attendere oggi da uno smartphone top di gamma credo però che la parte software sia ancora un po acerba non escludo che la versione che xiaomi ha mandato a me in prova avesse all'inizio un software non definitivo perché ho riscontrato qualche freeze di qualche applicazione qualche qualche incertezza ecco a livello software che devo dire andata poi migliorando con l'aggiornamento di sistema che ho installato se non erro 5 6 giorni fa sono convinto che quella che sarà poi quella che è la versione che sta arrivando nei negozi in realtà andrà benissimo da questo punto di vista però ecco io ritenevo giusto segnalarvelo le fotocamere finalmente tre sensori tutti e tre utili sul retro di uno smartphone niente sensori macro sensori di profondità e queste robe qui tre sensori da 50 megapixel il principale che scatta benissimo sia in diurna che in notturna le fotografie mi piacciono tantissimo le foto che riesce a realizzare questo smartphone c'è il grand'angolo il teleobiettivo teleobiettivo che abilita uno zoom ottico a 2x grazie alla differente lunghezza focale ecco se c'è un aspetto da segnalare che teleobiettivo e grand'angolo non hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine e quindi rispetto al sensore principale soffrono certamente di più in notturna però complessivamente è uno smartphone promosso da un punto di vista fotografico avrò modo di fare qualche confronto di portarvi qualche confronto qui sul canale rispetto agli altri top di gamma lo posiziono un passettino sotto rispetto ad iphone 13 pro e find x5 pro in ambito fotografico e ovviamente anche rispetto al galaxy s 22 ultra però siamo lì xiaomi si è avvicinata tantissimo insomma siamo davvero a un passo da quelli che sono un po i mostri sacri del settore in ambito fotografico stessa cosa per quanto riguarda la fotocamera anteriore da 32 megapixel i selfie mi convincono così come mi convincono anche i video dimenticate in questo momento la risoluzione 8k lui si può girare in 8k ma è un po come sempre un approccio di natura marketing vi ritroverete sempre ad utilizzare il 4k a 60 fps che è gestito benissimo da questo smartphone sia in diurna che in notturna mi è piaciuta tantissimo anche la parte costruttiva soprattutto perché xiaomi ha utilizzato sul retro questo vetro satinato che è piacevolissimo al tatto e diminuisce tantissimo l'effetto saponetta che insomma è uno dei problemi che di solito riscontro sugli smartphone con lo schermo curvo e il retro in vetro no classico quindi liscio per cui niente effetto saponetta su questo smartphone che rimane comunque uno smartphone ingombrante impossibile da utilizzare con una mano fortunatamente però xiaomi include in confezione anche questo è un altro plus rispetto ai concorrenti una cover trasparente in silicone morbido che devo dire torna sempre sempre utile fa sempre piacere ritrovare nella confezione di vendita non c'è la certificazione di impermeabilità ufficiale ip68 in questo caso dal mio punto di vista credo si tratti più di un discorso di costo di questa di questa certificazione però non credo ci siano problemi nel momento in cui qualche goccia d'acqua debba raggiungere o dovesse raggiungere questo xiaomi 12 pro infine c'è la questione sulla batteria luci e ombre per questo smartphone perché lui ha una batteria da 4.600 mAh capite bene che tutta questa potenza a disposizione probabilmente avrebbe necessitato di qualche mAh in più anche qui cerchiamo di capirci nel momento in cui voi fate un utilizzo normale dello xiaomi 12 pro lui vi porterà serenamente a sera senza problemi e senza patimi d'animo è chiaro però che nel momento in cui pensiamo ad un contesto come una vacanza iniziate a scattare tante fotografie a registrare tanti video lui potrebbe aver bisogno di una carica aggiuntiva e per fortuna la ricarica 120 watt correrà in vostro aiuto non è un batteri phone ci sono certamente top di gamma che riescono a fare meglio da questo punto di vista penso ad esempio al find x5 pro ma anche all'iphone 13 pro che devo dire l'auto autonomia sono due punti di riferimento per la fascia in cui sono stati collocati però ecco mi sarei aspettato qualcosina di più perché secondo me c'era lo spazio nella scocca per poter salire ancora con qualche mAh e dunque tiriamo le somme su questo xiaomi 12 pro beh allora come dico sempre nel momento in cui una persona ha la possibilità di arrivare ai 1000 euro per l'acquisto di uno smartphone difficilmente si troverà male con lo smartphone che andrà ad acquistare perché i top di gamma sono come dire buoni sono validi per poter svolgere praticamente qualsiasi operazione probabilmente l'unica categoria di utenti a cui mi sento di non consigliare questo 12 pro e sono tutti quelli che cercano specificatamente un battery phone cioè uno smartphone che magari li possa garantire due tre giorni di durata lontani dalla presa elettrica ma da questo punto di vista dovrete necessariamente rivolgervi non ai top di gamma perché è davvero impossibile oggi trovare sul mercato un top di gamma che garantisca quel tipo di autonomia complessivamente il 12 pro mi è piaciuto tanto dal mio punto di vista è la dimostrazione di quanto Xiaomi stia lavorando bene e di quanto ormai sia assolutamente in grado nella fascia premium del mercato di giocarsela alla pari con i diretti concorrenti proprio in termini di qualità di qualità percepita di funzionalità integrate nello smartphone ripeto è un top di gamma a tutti gli effetti e nel momento in cui doveste deciderli di dargli una possibilità in fase d'acquisto sicuramente non me ne pentirete io comunque vi inserisco in descrizione il link all'acquisto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate noi certamente ci rivedremo presto nei prossimi giorni perché devo parlarvi di tanti smartphone e ho tanti smartphone di cui parlarvi io per oggi ho concluso e noi ci vediamo ai prossimi video